Potrebbe avere un lieto fine la vertenza della cartiera Burgo di Avezzano. Entro tre mesi, infatti, dovrebbe nascere un agnuco che guarderà al settore del cartone e degli imballaggi con un nuovo imprenditore pronto ad entrare nell'opificio marsicano. Dunque si profila una riconversione della cartiera, l'ultima del gruppo rimasta in produzione dopo la chiusura dello stabilimento di Chieti, anche se la Burgo ha annunciato di non voler abbandonare completamente il sito produttivo di Avezzano. Infatti, nel caso vada in porto la trattativa, verrebbe stabilita una joint venture con Burgo che manterrebbe la produzione grafica e attiverebbe una terza taglierina, il che potrebbe significare il ritorno al lavoro di alcune delle maestranze che sono attualmente sottoposte a contratto di solidarietà. La soluzione è emersa nella riunione tenutasi oggi in Regione Abruzzo e convocata dal Vice Presidente Giovanni Lolli. Noi abbiamo deciso di fare qui in Regione un tavolo permanente con il Comune di Avezzano, con la provincia, con il sindacato, con l'azienda Burgo e con la nuova azienda, tutti i mesi, ogni paio di mesi ci vedremo e monitoreremo l'andamento di questa attività. L'orizzonte possibile è un orizzonte nel quale noi possiamo rioccupare l'intera forza lavoro, che era recentemente, non quella di qualche anno fa purtroppo, ma quella che recentemente è impegnata a vario titolo o sta in contratto di solidarietà oppure sta lavorando in aziende della Burgo medesima ma nel nord e più quelli che stanno in mobilità.